Ciao, sono Filippo Colagliani e sono qui oggi per parlare del BLE Mesh, l'implementazione della tecnologie Bluetooth Mesh. Durante questo video vi avvicinerò sul BLE Mesh, un sviluppo di sviluppo rispetto, sia da un punto di vista di hardware, come l'integrazione di Blue Energy LP e Stanford WB nel ecosistema, un punto di vista di software, come l'imbeddamento e i nodi di franzi, che credo essere davvero utili per applicazioni low-power. Il Bluetooth Mesh fu offizionalmente realizzato dal Bluetooth SIG, un gruppo di interesse speciale in giulio 2017, orientando principalmente l'automazione industriale, come l'integrazione, l'integrazione e il sensore di sensore. La microelettronica ST ha lavorato in più con il Bluetooth SIG, contribuendo alla definizione delle specifiche di Mesh e performando test interoperabilità dentro del gruppo di lavoro. Quindi, i benefici più importanti di queste tecnologie sono realizzato, scalabilità e sicurezza. E l'ultimo, ma non l'ultimo, è che possiamo usare il network usando il Bluetooth standard, disponibile sul tuo telefono mobile o tablet. Allora, vediamoci la nostra soluzione BLE. La ST BLE Mesh è disponibile con la famiglia blu NRG e la ST M32 WB. Il BLE Mesh SDK è basato su BLE Mesh System on Chip, un processor di applicazione, e Android e iOS, con diversi kit di evoluzione. ST EVAL ADB-008-V2 e ST EVAL ADB-011-V1, che è basato sul nuovo sistema di blu NRG Lp, Bluetooth Energy 5.1, supportando le funzioni di risultato di alta data e di lunghezza di comunicazione. La ST BLE Mesh è disponibile anche per la ST M32 WB. Un sistema di risultato di ultra-low-power, dual-core, con un radio multiplotocolo, e con una board di PNUCLE WB-55. Un network di Bluetooth Mesh sempre include nodi e controlli. Un nodo è un dispositivo finale come il luogo, il sensore di temperatura o il termostato. Un controlli è tipicamente un dispositivo smart, che controlla nodi individuamente, uno per uno, o un gruppo di nodi. Un dispositivo smart potrebbe essere un telefono mobile, come questo, o un nodo imbedito. Puoi usare un telefono mobile o un tablet come controlli, con una strada di ST BLE Mesh, disponibile online. Puoi cliccare per sviluppare un solo nodo, o per sviluppare un gruppo di nodi. altrimenti, puoi usare un nodo smart, come il sensore del sensore di proximità che è imbedito a una strada di energia blu, per sviluppare o sviluppare la luce LED. Puoi usare, per esempio, la strada di sensore di sensore, che è basata su LSM-6DS-OX con il corso di lavorazione di macchina per detestare automaticamente la monitorazione di vibrazione, per detestare automaticamente l'alertura gratis. o per esempio, puoi usare un microfono imbedito disponibile sull'energia blu per sviluppare o sviluppare la luce. Luce in. Luce off. Per i nodi di batteria, puoi usare l'implementazione di nodo Frenz In questo caso, il nodo low-power è un dispositivo operato di batteria che può sentire un messaggio con un ciclo low-duty, la maggior parte del tempo dorme. Il nodo Frenz resta un messaggio adattato a questo nodo low-power e lo renderemo quando il nodo low-power si accade e si tratta per un messaggio che è un ottimo modo di salvare l'energia. La sicurezza è importante e ogni messaggio, per questo motivo, nel network BLEMesh è encryptato due volte con la key network e con l'applicazione. La key network è partita tra tutti i nodi che appellano alla stessa network, mentre l'applicazione è usato per differenziare tra tutti i tipi di applicazione che appellano alla stessa network. Poi c'è anche la key device che è unica per ogni device usata per la provisioning. Grazie al meccanismo di provisioning puoi creare il tuo network in modo sicuro. Il provisioning del network è anche parte del standard Bluetooth Mesh è arrivato sia utilizzando un app che si riuscita sul tuo tablette o sul telefono o usando un nodo smart grazie a un'imbeddata di provisioning che è disponibile online nell'ultimo SD. Questi bordi e il software sono tutti disponibili per voi. Quindi puoi iniziare a sviluppare l'applicazione industriale basata su Bluetooth Mesh. Check out sd.com slash BLEMesh per tutti i dettagli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.